Riparte in sordina il mercato settimanale dopo due settimane di stop forzato legato alla recrudescenza dei contagi in città. Dopo diversi incontri con le categorie sindacali, stamattina si è deciso di rimontare le bancarelle a Marchitello, ovviamente con tutti i controlli necessari. In campo, vigili urbani e associazioni di protezione civile che dalle prime ore del mattino hanno presidiato gli ingressi dell'area mercatale per controllare il super green pass ai cittadini che oggi hanno deciso di far compere al mercatino settimanale. Controlli rigidi sulla carta verde esibita regolarmente da tutti i cittadini. Poche le polemiche, chi non era in possesso di green pass ha semplicemente fatto marcia indietro senza problemi. Tra le bancarelle, controlli serrati anche sul distanziamento e sull'utilizzo corretto della mascherina per mercatali ed esercenti. La risposta è positiva, sia da parte dei gestori delle varie bancarelle, ma anche e soprattutto dalla nostra popolazione che ha ben recepito il fatto di mantenere il distanziamento sociale, indossare la mascherina correttamente e esibire ai volontari il green pass. Fino a questo momento la risposta è positiva. Il momento storico che il mondo sta vivendo lo si vede anche dal tipo di merce esposta nel mercato dove qui e lì spuntano diverse bancarelle che vendono mascherine FFP2 e gel igienizzante. Scarsa l'affluenza dei gelesi, un po' frenati dalla paura e un po' per scarsa informazione sulle modalità di apertura. Il comune non è che può fare due giorni sì, dieci giorni no, cinque giorni sì, cinque giorni no. Due giorni sì è sempre poi aperto. No, 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 perché i contagi ci sono stati e ci sono. Quindi non potete intralciare il lavoro a chi deve lavorare. Ma secondo le sigle sindacali era importante ripartire. Purtroppo il periodo è quello che le persone, tutti, c'è questo stato di malessere. Però ringraziamo l'amministrazione per quello che ha fatto e speriamo che tutto vada bene. La cittadinanza risponde bene alle nuove regole, anche i mercatari rispondono. Però il problema, ripeto, il problema è che c'è questo malessere in tutto, non solo a Gela, in tutta la Sicilia. Penso in tutta l'Italia e in tutto il mondo. L'obiettivo era ripartire. Siete ripartiti anche se l'affluenza era prevedibile, non è quella che si sperava. Sulla affluenza già l'avevamo detto che c'era scarsa affluenza perché la gente ha paura. Però l'importante era ripartire e iniziare già con la prevenzione che stanno facendo, controllo dei green bus, mascherine. Tra l'altro stanno facendo pure delle offerte sulle mascherine FFP2, quindi trovano già i prezzi anche leggermente più bassi. Quindi vediamo di ripartire nella normalità. Tra le bancarelle oggi anche i rappresentanti dell'amministrazione che sono venuti di persona per verificare il rispetto delle regole. Diciamo che si va avanti e si deve andare avanti nonostante questa pandemia che ci ha visto chiudere, sospendere il mercato per due settimane. Non l'avremmo mai voluto fare. Siamo stati costretti per l'emergenza che c'è stata a Gela per una settimana, dieci giorni. Diciamo che dobbiamo partire da qui. Rispettare le regole, invitare i cittadini ad osservarle e essere presenti in tutti i luoghi con il Green Pass rafforzato e con le mascherine.